Un nuovo video di Eurotrack Simulator 2 Siamo qua con il mio scagnetto Ho preso un bel carico Sono 3000 km Da fare in Bomi danno 3 giorni e qualcosa Venerdì, sabato, domenica Più o meno, si, 3 giorni e qualcosa Io direi subito di Partire Siamo diretti verso la Finlandia Spero non mi cresce il gioco Ops Vedete com'è bello lungo Tac Ehi, bavuce Bom Eh, bom Via Diretti verso l'autostrada C'è bello Oh ma Maria Che bel volante Bello Bello scagnetto Questo Magari qualche Un pezzo di viaggio Lo faccio per conto mio Però oggi avevo intenzione Di registrare Quindi Quanti litri ha sto camion? Non è perché Con l'altro Vi ricordate Nelle scorse puntate Che merda Quello cazzo di camion Ti veniva il cancro a guidarlo Cioè A me non piaceva Via Giù 19.000 km Questo camion Proprio un camion bellino 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 Mia velocità Proprio un camion Bellino Bellino Proprio un camion Bellino venire 650 questo mi sembra che la strada incidente io lo sapevo no è però non so quel troppo no è maria noi ma quanto cavolo ci mette no qua ho sbagliato io ok da gente arrabbiato verso vediamo l'autostrada devo fare più che altro da allora autostrada o narco verona faccio 3s che non c'è più vado a vienna per no 2 isolos in finlandia madonna che lunga la faccia 3.000 km ragazzi via diverto di andare con questo camioncino via devo mettere gli annabaglianti sarebbe male via via adesso verona allora questo viaggio durerà 6-7 puntate perché forse anche di più una decina di puntate magari poi me lo farò anche per conto mio se no mi è dormento cioè farò per conto mio più divertente registrandolo via sta prendendo velocità eh speriamo questo qua che non sto capendo cosa sia boh sembrava uno scanio no mercedes scusate via via allora 22-22 era l'orario ah mi ha spaventato era un elicottero cazzo quello là in alto a sinistra mi ha spaventato allora allora oh maria un po' stanco no dimmi te o sti cani se poi ho superato qua se poi mi metterò in prima corsia più o meno devo andare un po' giù sarò gli 87 adesso no 87-88 dai finalmente finalmente via sto superando sto man come cambio mi sta proprio sul culo madonna per i cavalli no però via via è particolare sto camion molto 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 biello se la guida notturna sto notte me lo guidare di notte a me non mi piace ma se non dovrei superare di destra di si di destra però questi qua sono in seconda corsia eh che posso andare in che posso andare in terza corsia come un tir adesso però di destra coglioni piano piano a maria allora scusate se sotto zitto ma stanco muerto eh muerto muerto allora cos'è ricamina ma però non vedo tanto questo specchietto bene ah no puoi regolarlo bene vero via spero sti sto qua è mercedes fuck eh devo superarli vado un po' più veloce allora 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 Alla prossima Anche Fjord Ah Posso stare anche qua Tutto il cruise Così Vado meglio Non è che ce l'hanno quasi tutti i camion Cruise Control Cioè tutti Noi non prendiamo un camion di vent'anni Cioè non di vent'anni fa ma Di cinquant'anni fa Per me non ce l'ha il cruise control Almeno Penso E già di notte fa senso Cioè non c'è cosa di nessuno in autostra Pochissime persone Eh lo sapevo Lo sperava Eh sì Sto sono un'alta Chirfo Trocci quattro minuti Trocci quattro minuti faccio ancora Non so quanti chi ho in tipo Non lo faccio ancora Non mi piace tanto stare in seconda con il server Perché la occupo Cioè Pressione dell'acqua Vediamo se il calore dell'acqua Trocci quattro litri Mille chilometri Molto uscito chilometri Trocci quattro chilometri con un litro Sono due chilometri Qua l'olio L'acqua temperatura Guarda quello dello scania Come fatto bene Eh sì quello scania Sì 85 gradi d'acqua E olio 90 Vanno bene Vanno più che bene Per vedere se Tolgo via una marcia O che adesso aumenta Penso Oppure se accelero Eh lo so raga Oh Trovo un parcheggio 16 minuti di video Eh oh Adesso mi fermo Maria Per fermare 20 minuti di tempo Per fermarlo Adesso mi devo mettere qua in prima Fermo qua Metto qua Via Tac Vestio Facciamo la pausa qua Oh ma ragazzi Io vi saluto Io E il mio Scania Vi salutiamo Ci vediamo Un prossimo video Bella